ciao a tutti un altro lungo giorno di trattative ieri notte abbiamo attraversato la frontiera con il congo stamattina ho avuto la possibilità di conoscere un altro gruppo di bracconieri per cui niente ancora tanta pazienza vediamo se riusciamo a concludere questa parte importante del progetto come vedete la mie spalle c'è una bambina che sta riempendo dei bidoni d'acqua oggi ho seguito una carovana di persone con delle tanniche vuote li ho seguiti fino a questo punto mi hanno spiegato che praticamente ogni giorno la gente fa chilometri e chilometri per venire fino a qui a prendere dell'acqua preziosissima a presto un saluto ciao ciao